buongiorno a tutti oggi siamo a Ravenna stiamo facendo una bellissima passeggiata lungo questa spiaggia deserta in compagnia del suono del mare e della luce del sole un po' nuvoloso ma comunque c'è e così volevo condividere con voi questo bellissimo momento vi faccio vedere in quale posto magnifico siamo ora ci guardiamo intorno attenzione ma vedo due esemplari stanno facendo qualcosa di particolare ma avviciniamoci meglio per capire chi sono a dare magliette sono due ottimi esemplari di Love Shaman Way stanno facendo un'ottima tecnica di radicamento notare quanta energia e quante radici stanno facendo sprofondare nella terra si nota con piacere tanta armonia tanta pace è incredibile è incredibile veramente è proprio una forma di radicamento perfetto però hanno un'ottima tecnica di radici stanno facendo la terra è veramente molto molto più addirittura è pieno di radici 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 di avivare la terra